è arrivata la flashforge weeder 3 plus è un modello di stampante di grosso volume di stampa con circa 30 cm di altezza per fare delle cose abbastanza grandi come vedete è tutta molto molto bella così andiamo in via anche a stampare il professionale ancora molto più concettive per riuscire a dare dei lavori di stampa ancora più particolari il nostro gioco il nostro gioco il nostro gioco non ho letto con la pen drive non ho letto con la pen drive è bella grossa è una passecetta io durisco capire che la mia ero la D2 e poi hanno fatto 2S ma non sono stato scritto nonostante cambiano ben poco Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ora uniamo un po' Vediamo AXB Sceglie Sceglie strade